Tutto sommato bene, a parte un po' di adrenalina all'inizio, poi mi sono sciolto con il passare dei minuti. È stata un'emozione perché dopo 15 mesi sono veramente tanti e ho sofferto un sacco a stare fuori dai papi. Adesso non può stare a piacere, allora mi condizioni so che ogni settimana mi sento che miglioro sempre di più. Allora, sotto il punto di vista del gioco non possiamo dire no, perché poi se uno va a analizzare la partita abbiamo avuto tantissime balle buone. Ci è mancato quel pizzico di cattivera nel buttarla dentro, che purtroppo è una cosa che è mancata e che è venuta alla luce. Però sono anche dell'avviso che questo campionato è ancora aperto, siamo 4 squadre nel giro di 6 punti e come abbiamo visto può cambiare da un momento all'altro la situazione. I nostri tifosi ci tengono sempre o particolarmente a vincere il campionato e posso dire che anche noi ci tendiamo, se non di più, a vincere questo campionato. Purtroppo le contestazioni fanno parte del gioco, ma bisogna essere tutti uniti per raggiungere questo traguardo che secondo me non è impossibile.